Siamo qui oggi al Caneo di Mariano e vogliamo ringraziare il consigliere Fabio Altitonante perché oggi finalmente in Regione Lombardia abbiamo una legge che aiuta gli amanti degli animali, gli animali e le associazioni che si occupano di loro. Il consigliere Fabio Altitonante ha presentato delle proposte che sono state votate dal Consiglio regionale tutto. Ringraziamo anche i consiglieri che l'hanno votato. Geremia, 14 anni, appena abbandonato ed ecco che ha trovato la sua nuova casa. Non ci fermiamo mai. Oggi siamo in visita in una struttura straordinaria, un canile dove ci sono più di 90 amici animali. La struttura è gestita dall'associazione Amici del Randaggio. Sono dei volontari che fanno un lavoro incredibile. Oggi tocchiamo con mano quello che abbiamo modificato in Consiglio regionale. Ebbene sì, una legge che va a premiare le associazioni e poi adozioni più semplici e più garantite. C'è ancora tanto da fare e nelle prossime settimane presenterò delle ulteriori modifiche per migliorare ancora di più il lavoro delle associazioni. Ci servono energie, risorse e una legge semplice, veloce e che garantisca tutti associazioni, animali e proprietari. Anche coloro che per la prima volta vogliono adottare un amico a quattro zampe.